finisce 0 a 0 una gara intensa e tattica che ferma la rincorsa del giulianova all'avezzano i giallorossi sono efficaci e pericolosi nei primi 20 ma poi subiscono il ritorno dei padroni di casa che prima bloccano e poi addirittura corrono il rischio si dice così di trovare anche la zampata vincente bloccata da uno strepitoso bocca nera nella ripresa gli highlights montati da mario giacchetta per il racconto della gara al quarto minuto persiani per di paolo tuffo di puddu che mette in angolo due minuti dopo ancora persiani si mette in proprio salta due avversari cerca di convergere al centro l'intervento di un difensore diventa decisivo fallo laterale lungo le noci sussi se colpo di testa e deviazione in angolo azione molto bella di persiani che però conclude poco bene che sfiora e finisce il tiro a fil di palo si affaccia la renato curi angolana che oltre ad iniziare a prendere le misure al giulianova costringe su calcio da fermo di cicchella bocca nera al blocco in due tempi poi più nulla fino alla fine della frazione di tempo terzo minuto traversone di d'amico smanaccia bocca nera riprende buffetti con l'esterno prova la conclusione due minuti dopo miani va sul fondo fa tutto molto bene ma viene chiuso dall'estremo portiere giallorosso al decimo i nerazzurri vanno vicinissimi al vantaggio dagli sviluppi di un correre il pallone arriva a miani che spara botta sicura su bocca nera che compie il miracolo ventunesimo e ventiseiesimo ancora renato curi provano ad amico e buffetti ma con poca convinzione alla mezz'ora d'amico va via raccoglie buffetti deviazione angolo e anche qui dagli sviluppi fuschi sotto misura spara alto si fa vivo il giulianova nel finale un minuto dopo di paolo chiama in causa pudu che replica con i pugni ci prova sei minuti dopo barlafante a cercare lo specchio ma il tiro è troppo debole e prevedibile allora mister siete partiti bene tre occasioni due e mezzo diciamo poi rachini ha studiato un po ha preso le misure la partita si è fatta complicata loro l'avevano preparata così l'hanno detto pure i giocatori stessi che in diversi si conoscono così di 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 stare tutti i combatti per poi cercare di ripartire in qualche sortita è normale che noi abbiamo provato di fare gol dall'inizio come come sempre cioè abbiamo provato come sempre fare la partita e cercare di fare gol perché si aprono degli spazi detto e ridetto questa cosa da parte nostra oggi sono le prime due occasioni due e mezzo non c'è stato sto gol che non ci ha permesso poi diventa difficile che col passato i minuti è un campo che apparentemente è molto pesante quindi chi deve costruire è molto più difficile da chi deve difendere quindi si è complicata la partita ma io vi dico pure che con molto onestà certe volte queste partite poi perché c'è stato intervento in bocca nera nella ripresa che ha salvato il risultato puoi pure perdere quindi cioè non è compromesso quando stavamo a cinque punti non è compromesso adesso il cammino nostro è in linea nel senso che noi stiamo cercando di far bene partito dopo partito è normale che c'è un velo di delusione ma non deve esserci perché noi siamo venuti qua se voi la chiamate presunzione io accetto pure questa definizione della presunzione a vincere la partita mister avete avuto un po di difficoltà nei primi 20 minuti poi una partita tattica perfetta sono d'accordo siamo partiti un po a rilento nel senso che arrivavamo secondi sulle cosiddette seconde palle e siamo andati un po in affanno poi da lì fino al novantesimo penso che la mia squadra a biaretto alla grande ha tenuto testa una delle squadre più forti del campionato e penso che alla fine il pareggio sia meritatissimo anche perché penso che poi alla fine le due occasioni quelle più importante della partita ce l'abbiamo avuto noi ci siamo preparati per per essere comunque corti e stretti quindi concedere poi quelle che sono le giocate che fanno loro spesso davanti comunque con quei giocatori che hanno se non si è messo bene in campo va in grossa difficoltà e penso che oggi la mia squadra nei 95 minuti non è andata mai in difficoltà